Ma come si fa a diventare un bravo terapeuta breve? Un bravo terapeuta breve. O un terapeuta breve bravo? Nel video della scorsa settimana ho parlato di pratica intenzionale o pratica deliberata, la deliberate practice. Assumendo, sembra che anche in psicoterapia, così come in tante altre discipline, il modo migliore per migliorare, per diventare più bravi, per diventare terapeuti migliori, sia fare tanta pratica. Che non è quello che fai nel tuo studio con il tuo paziente, quella è una performance. La performance corrisponde a quello che fai nel tuo studio con il tuo paziente, mentre la pratica corrisponde alle ore di allenamento nelle competenze, nelle abilità, nelle capacità che ti serviranno poi all'interno della tua performance, all'interno del lavoro con il tuo paziente. E tra i tanti Scott Miller è uno di quelli che negli ultimi anni ha mostrato come effettivamente sembra che aumentare le ore di pratica, fare tanta pratica, correlli significativamente con un aumento dell'efficacia del terapeuta. E qui la domanda di qui sopra. Ma come si fa a diventare un terapeuta breve, migliore, con la pratica intenzionale? Studiando un po' l'argomento, un po' di letteratura, ho elaborato un po' di esercizi che facciamo fare anche nell'Istituto ICNOS, la nostra scuola di specializzazione in terapie brevi, sistemico-strategiche. Un primo esercizio sarebbe in realtà quello di andare a registrare le tue sedute per poi andarle a rivedere. Nell'ambito dell'applicazione della pratica deliberata, l'utilizzo di videoregistrazioni delle sedute è molto utile, puoi anche immaginare perché. Infatti però non è così semplice, non tanto per un punto di vista tecnico, perché oggi ormai ti basta una GoPro per andare a registrare una seduta di psicoterapia, quanto per una questione di significati, di emozioni, di... Ai terapeuti non gli piace molto registrare le proprie sedute, ai terapeuti più che ai pazienti. In più è anche vero che ti servirebbe una sorta di coach, qualcuno che guardi con te le tue sedute e che ti dia delle informazioni, dei feedback. E anche quello non è proprio facile e scontato da trovare. Questo perché non è che quello può essere uno psicologo qualunque, non può essere un coach improvvisato, deve essere una persona, uno psicologo che si è formato per formare gli altri, per aiutarti a migliorare. In più deve avere un programma di training, di miglioramento specifico, non è che uno che si può limitare a guardare un video e dire secondo me lì avresti potuto fare questa cosa perché secondo la mia teoria... No, no, cioè deve studiare per migliorare i terapeuti. Comunque, in mancanza di un coach professionista, ci sono delle cose che puoi fare anche tu per migliorare come terapeuta utilizzando la pratica intenzionale. Innanzitutto prendi un costrutto chiave delle terapie brevi, di molte terapie brevi. In questo caso iniziamo dalla tentata soluzione disfunzionale. Se non hai idea di che cosa sto parlando, ti puoi andare a vedere il video Blocca le soluzioni del paziente in cui lo spiego abbastanza bene. A questo punto quello che puoi fare è molto semplice. Giornalmente prendi foglio e carta e mettiti a individuare nelle interazioni con gli altri quando ti parlano dei loro problemi, non i tuoi pazienti, ma gli altri, amici, colleghi, eccetera, tutte le soluzioni tentate che mettono in atto. Quindi mettiti nella lista, individuo proprio problema, soluzioni tentate, e vai a cercare di fare un'indagine mentre parli con loro per vedere quali sono quelle soluzioni che hanno messo in atto di fronte a quel problema ma che non lo stanno aiutando a risolverlo. L'idea è quella proprio di andare a migliorare la tua skill dell'individuare le soluzioni tentate, le soluzioni che non funzionano delle persone. In questo modo anche quando starai con il tuo paziente avrai la possibilità di trovarle più facilmente. Allo stesso modo una cosa che puoi fare è andare a indagare le risorse che la persona mette in atto. Puoi cioè andare a indagare tutte quelle cose che hanno aiutato le persone con cui stai parlando, che parlano dei loro problemi, ma anche di cose molto semplici, molto giornaliere, tutte quelle cose che le hanno aiutate in qualche modo a raggiungere l'obiettivo, a risolvere il problema e via dicendo. Sembra una cosa scontata e facile da fare, ma non è per niente. Ti faccio un esempio, ti chiedo, segnati su una lista adesso, dopo questo video, 15 tue risorse, 15 cose che ti rendono bravo, particolare, speciale, riconosciute da te o dagli altri. Provaci. Generalmente quando facciamo fare questi esercizi ai nostri studenti si trovano in grande difficoltà, dicono 15, è impossibile, sono troppissime. In più il nostro lavoro si basa molto su aiutare la persona a individuare le sue risorse. Se non siamo in grado di farlo su noi stessi, immaginiamo con gli altri. Quindi l'esercizio che puoi fare è proprio quello di metterti nel parlare con gli altri e individuare quelle che possono essere le potenziali risorse, delle potenziali strategie anche, che hanno messo in atto per risolvere un problema. Un altro concetto chiave è quello della comunicazione, dell'interazione con l'altro. Una cosa che io facevo spesso quando mi mettevo a allenare le mie skill da terapeuta e che faccio ancora adesso di tanto in tanto era prendere i cinque assiomi della comunicazione umana, descritti in libro Pragmatica della comunicazione umana di Watzlawick e colleghi, e allenarli nella vita di tutti i giorni. Per esempio andavo a cercare di vedere se in quel momento la persona stesse adottando una posizione one up o one down, oppure se in quel momento stavamo avendo una comunicazione più a livello di contenuto o di relazione, oppure quale fosse il livello di contenuto e quale fosse il livello di relazione in quella specifica interazione. E ovviamente un'altra cosa che facevo, dal primo assieme della comunicazione umana non si può non comunicare, andavo a esaminare tutta la comunicazione non verbale, ovviamente cercando di chiedere dei feedback per evitare di trovarmi di fronte alla situazione in cui io pensavo che la sua comunicazione non verbale stesse comunicando qualcosa e invece lui intendeva qualcos'altro. Infine, quando iniziai a studiare la terapia breve centrata sulla soluzione, che è una di quelle che peraltro insegniamo nella nostra scuola, iniziai a domandare alle persone che soluzioni mettessero in atto per affrontare dei problemi. Mentre prima ero molto problem-oriented, ancora da oggi lo sono quando serve esserlo, in quel momento in cui dovevo allenare le mie solution-oriented skills, le mie abilità orientate alla ricerca di soluzioni, iniziai parlando con le persone non più a cercare di capire come funzionava il problema, ma ammisi più che altro a cercare di mettermi nella posizione e di chiedere a loro quali fossero le soluzioni migliori. Ecco, queste sono un po' di idee, un po' di esercizi, di pratica che puoi mettere in atto per riuscire a utilizzare la pratica intenzionale nella vita di tutti i giorni, quindi per fare pratica e migliorare la tua performance. Ci sono delle altre idee, ci sono delle strutture più complesse da mettere in atto, degli esercizi più formalizzati, però quello che ho cercato un pochino di fare è di darti degli spunti che puoi applicare nella vita di tutti i giorni, in modo che l'allenamento della tua pratica possa diventare più intenzionale.